Il gruppo della difesa britannico VAE System taglierà 2000 posti di lavoro, principalmente del personale della divisione aeronautica che si occupa della fabbricazione degli aerei da combattimento Typhoon Eurofighter. Questo a causa di un forte rallentamento degli ordini. La holding britannica in una nota ha specificato che 1400 posti verranno tagliati solo in quel settore, altri 375 in quello marittimo e 150 nelle attività di intelligence. Il gruppo impiega 34.600 persone in Gran Bretagna. Il sindacato Unite ha annunciato battaglia.